Siamo qui con Antonio, centro commerciale a Brindisi. Puoi dire che cosa ti è successo Antonio? Stavo con la stampella che mi faceva male il ginocchio. Stampella? Si è avvicinato, mi ha detto solo posso fare una preghiera per te, mi ha toccato il ginocchio. E come va adesso? Alleluia, gloria a Dio! Non mi fa più male. Non ti fa più male, grazie. Grazie ancora. Grazie Gesù, grazie. Bene, grazie Antonio.